Caselle Torinese, via Marco Polo, proponiamo appartamento pari al nuovo, costruzione del 2017. L'immobile è stato acquistato ma per motivi di lavoro non abitato. Abbiamo l'ingresso senza barriere architettoniche, dallo stabile. Ci troviamo l'antifurto perimetrale volumetrico, le zanzariere su tutte quante le finestre e su tutte le porte finestre, il terrazzo, tende invernali e tende estive, e qui un ripostiglio dal quale è stato ricavato un angolo comodo con acqua fredda e acqua calda. Abbiamo la pompa di calore, riscaldamento tramite serpentina pavimento, bagno con box doccia, prima camera da letto, entrambe le camere sono molto ampie e luminose, abbiamo sicuramente giornate più belle rispetto a quella di oggi ma come potete vedere anche dalle coperture sui letti o sui divani l'immobile non è mai stato utilizzato. Qui troviamo il secondo terrazzo dove troviamo il motore della pompa di calore, abbiamo l'esposizione su via Vernone e anche su questo terrazzo ci troviamo le tende estive. Le porte finestre vi dicevo appunto che sono dotate di zanzariere a plissier quindi si possono bloccare in qualsiasi momento si voglia. Troviamo ancora il box auto, la cantina e le spese condominali ammontano a circa 530 euro annue comprensive di acqua. E questo è tutto.